Esatto, mia cara. Farò un giro qui intorno alla ricerca di un luogo tranquillo. O resta qui. O potresti imbatterti in qualcosa che ti farà venire i capelli bianchi. E sei un po' troppo giovane, non credi? Padre, ho trovato un libro nel labirinto. E così sei andato in giro anche tu, santo cielo. Non mi dai mai retta. La prossima volta ti ammanetto da qualche parte. Ci sono dei singoli protettivi. Forse potrebbero tornarci utili. Che tu sia benedetta per il pensiero, ma ho abbastanza protezione dal cielo. E perché quel diagramma funzioni? Andrebbe disegnato e poi dovresti sederti nel mezzo. Peccato che abbia dimenticato il mio kit da pittore a casa. E adesso fammi un favore. Resta qui tranquilla, prima che ti imbatta in qualcosa di più grande di te. Me ne starò buona. Va bene.